Allora, mister Cavorraletti del Pomezia, una vittoria sicuramente importante, ma una vittoria, possiamo dirlo, sofferta, no? Assolutamente sì, buonasera a tutti. Vittoria soffertissima, lo sapevamo, con i ragazzi abbiamo preparato questa partita perché sapevamo che loro erano una squadra ostica. Noi già in casa abbiamo fatto una fatica in mane contro di loro e all'ultima hanno preso il palo, avevamo vinto noi 2-1. Qui la partita è cambiata sul calcio di rigore a loro favore perché era 2-1, potevano fare il 2 pari, invece hanno sbagliato il rigore e sulla ripartenza abbiamo fatto il 3-1 noi. Poi comunque non mollano mai, con mister Canischi non mollano mai, hanno fatto il 3-2. Belle partite, si viveva anche per queste partite che indipendentemente dalla classifica i valori in campo poi emergono nei momenti cruciali, ma loro sono stati bravissimi. Io faccio, come ho fatto ai ragazzi, complimenti, il portiere loro è credo uno dei portieri più forti che ho visto negli ultimi 7-8 anni, insomma anche nei categori superiori, è qualcosa di impressionante. Fortunatamente per noi loro erano un pochino corti quindi alla fine hanno un pochino mollato anche sulla pressione e siamo riusciti a portarlo a casa, sono contento. Come si è comportato l'arbero? Perché ho visto un po' di turbalenza da parte dei tifosi locali. No, credo che fare l'arbero sia complicatissimo, ha cercato dall'inizio di tenere buoni noi, forse se l'è presa con le persone sbagliate perché io e mister Canischi eravamo quelli che magari tenevamo meglio e più tranquille le panchine, certo urliamo un po' per tenerli buoni ma sono ragazzi, partite tirate, loro hanno bisogno di punti per la salvezza, noi abbiamo bisogno di punti per continuare la nostra corsa quindi è normale. È stato bravo, è stato bravo, il direttore di gara alla fine l'ha tenuta concedendo il giusto a tutti, va bene così, va bene così. Ma il campionato adesso, l'Aragas Ciccate Golf ha recuperato, ha vinto una partita in casa, se l'aspettava questo crollo da parte di questa squadra che sembrava imbattibile? No, va bene, non si tratta di un crollo, conosco benissimo i ragazzi dell'Aragas, secondo me non è un crollo come l'Igol, se tutti pensano fosse un crollo eppure sta lì. Il campionato è aperto, non ti regala nulla nessuno, la partita di oggi non è una testimonianza e quindi il campionato sarà aperto fino all'ultima giornata. Il prossimo turno è per voi? In casa contro i ragazzi dell'Aragas, quindi speriamo bene, daremo il fritto come abbiamo fatto oggi e vediamo, vediamo. Bocca al lupo. Grazie, viva il lupo.